buongiorno a tutti lunedì mattina noi dovremmo riprendere le nostre lezioni del modulo di pallavolo del dell'esame di giochi sportivi ma siamo ancora in attesa della divulgazione dell'ordinanza che ci dia la garanzia di poter fondamentalmente accedere all'impianto e fruirne in maniera regolare quindi la didattica ci ha chiesto di fornirvi un supporto di tipo telematico per non rimanere troppo indietro con i programmi per ovvi motivi essendo la nostra materia pratica procedo con una parte di regolamento in maniera che in ogni caso voi possiate già approfondire questa parte che comunque sarà oggetto dell'esame finale del test finale scritto quindi ripartiamo da una cosa che avevamo già visto con tutti voi a lezione dalle posizioni in campo come potete vedere ho riscritto ho ridisegnato come avevo fatto già a lezione il campo da gioco che si suddivide in sei zone 1 6 5 4 3 e 2 dove le posizioni 1 6 e 5 sono le tre posizioni di seconda linea 2 3 4 sono le posizioni di prima linea vi ricordo che il giocatore che sta in posto 1 è il giocatore deputato a mettere in gioco il pallone con il servizio la differenzazione tra prima e seconda linea viene fatta perché perché i giocatori di seconda linea per poter eventualmente effettuare un attacco dovranno staccare prima di quella che viene definita la linea dei tre metri questa linea qui che funge da separazione dalla prima alla seconda linea quindi un giocatore che vuole attaccare un pallone nel campo avversario da posto 1 6 e 5 dovrà staccare prima della linea dei tre metri per poter effettuare il colpo d'attacco nel caso staccasse con l'ultimo appoggio da sopra la riga a oltre la riga quindi in prima linea in qualsiasi zona della prima linea l'arbitro fischierebbe il fallo ok quindi non è possibile eseguire un colpo d'attacco dalla seconda linea se non staccando prima della linea dei tre metri i giocatori ruotano in senso orario quindi in funzione di chi vince lo scambio vince il pallone posto 1 scorrerà in posto 6 posto 6 posto 5 5 in posto 4 posto 4 in posto 3 posto 3 posto 2 posto 2 andrà al servizio vi ricordo che questa operazione avviene nel momento in cui la squadra avversaria è al servizio e io sono nella fase di cambio palla cioè cosa significa i miei avversari mettono in gioco il pallone io conquisto il punto e conquisto il diritto di servire allora in la mia squadra effettua una rotazione e si gira come vi ho mostrato in precedenza con il giocatore che si verrà in posto 1 deputato al servizio la pallavolo si divide fondamentalmente in due grandi momenti il momento appunto del cambio palla cioè quindi quando la squadra avversaria sta servendo e io devo riconquistare il diritto al servizio e la fase di break point la fase di break point è il momento in cui la mia squadra è al servizio e il primo attacco viene effettuato dalla squadra che è in cambio palla in ricezione cioè io metto dentro il pallone in gioco la squadra avversaria è la prima ad avere a disposizione il pallone per mettere a terra il punto vi ricordo inoltre come avevo già detto a lezione che nella pallavolo è voluta abbiamo un unico palleggiatore per comodità il palleggiatore cioè dividiamo la pallavolo in fasi e la posizione in cui il palleggiatore si trova determina il nome della fase stessa che cosa significa se il nostro palleggiatore è in posto 1 verrà chiamata fase 1 se il nostro palleggiatore è in posto 6 verrà chiamata fase 6 e così via dicendo all'inizio dell'azione sia che io sia al servizio quindi sia in fase di break point sia che la mia squadra sia in fase di ricezione quindi in fase di cambio palla o anche viene anche chiamata side out i miei giocatori nonostante il palleggiatore sia sempre il giocatore che andrà a sviluppare il secondo tocco quindi normalmente proporrà l'alzata per servire l'attaccante devono partire nelle condizioni in cui si trovano rispetto al campo non possono spostarsi nel campo stesso fino a quando il pallone non in gioco che significa che se il palleggiatore è in posto 6 non dovrà mai essere in posizione diciamo iniziale quindi prima che la palla venga messa in gioco in un'altra posizione del campo fino a quando non c'è non è partita effettivamente l'azione non è partito il rally va bene questa parte qui l'approfondiamo poi di in maniera più diciamo integrata durante la fase di lezione perché al momento noi ruotiamo su tutte le posizioni e tutti i nostri giocatori fanno tutto non c'è ancora quella che viene definita la specializzazione dei ruoli è una fase più approfondita ed è una fase di più alto livello che distingue appunto i giocatori le squadre scusatemi di livello più alto perché appunto permette a un giocatore di specializzarsi all'interno del suo ruolo per poter diciamo esprimersi al meglio in una determinata fase del gioco in una determinata fase di campo questo per quanto riguarda le rotazioni le posizioni del campo la fase break e la fase cambio palla adesso facciamo un excursus su quelle che sono le principali regole di gioco che dovreste sapere per poter condurre comunque un allenamento o comunque una partita anche a un livello altissimo ok quindi diciamo che le regole di base quelle che vengono fondamentalmente toccate in quasi tutte le gare mi avvalgo sempre dell'utilizzo della lavagna soltanto per non perdermi dei punti e e per poter comunque strutturare un maniera un pochino ordinata il discorso da proporvi non vi preoccupate se non si legge particolarmente bene nel video tanto via leggo anche l'immagine della lavagna e poi potete appunto seguirvi il video da una parte con l'immagine a parte della lavagna potete ricondurre la mia voce ai vari punti ok allora non so se si legge comunque il primo punto che descriviamo è la grandezza del campo il campo è 9 metri per 9 metri linee comprese quindi cosa significa se il pallone colpisce la riga e dentro ok quindi sono 9 metri comprensivi delle linee c'è una linea appunto come abbiamo descritto in precedenza che divide la prima dalla seconda diciamo scusate il gioco di parole linea del campo stesso che è la linea dei tre metri quindi abbiamo due zone una di sei metri seconda linea è una di tre metri prima linea abbiamo sei giocatori per ogni squadra quindi c'è un sestetto più un giocatore che viene definito il libero il libero che cos'è è un giocatore che svolge unicamente i fondamentali di seconda linea quindi riceve difende e alza non può attaccare non può servire quindi un giocatore fortemente specializzato che di fatto è un po il il responsabile della seconda linea ok quindi è il giocatore più specializzato dei fondamentali di seconda linea e appunto viene definito con più uno perché perché può entrare scambio per scambio sostituendo un qualsiasi altro giocatore che è in posto 16 o 5 del campo ok poi vediamo come vengono viene diciamo organizzata la sostituzione ogni squadra ha a disposizione tre tocchi e questo comunque in generale facendo la parte pratica lo sappiamo però una cosa importante è che il muro non viene conteggiato nei tocchi cosa significa facciamo un esempio se la squadra ha la palla e attacca e un giocatore della prima linea della squadra b saltando a muro tocca il pallone che rimane comunque nel campo della squadra b la squadra b ha ancora a disposizione tre tocchi quindi se io attaccante colpisco il muro che di fatto smorza la traiettoria dell'attacco stesso la mia squadra ha ancora a disposizione tre tocchi per riorganizzare l'azione quindi il muro non viene conteggiato sostituzioni ogni squadra ha sei sostituzioni a set da poter effettuare a differenza di altri sport vedi il calcio un giocatore che viene sostituito potrà rientrare potrà rientrare sia all'interno dello stesso set o eventualmente se finisse il set in panchina può rientrare comunque nel set successivo il cambio però può avvenire all'interno dello stesso set soltanto giocatore su giocatore che cosa significa se io ho il giocatore numero uno e lo voglio cambiare sostituendolo col giocatore numero due ho la facoltà di si dice chiudere il cambio quindi il giocatore numero due in questo momento è in campo che è il sostituto già del mio del mio giocatore titolare posso togliere nuovamente il giocatore numero due ma inserire soltanto il giocatore numero uno non posso mettere un altro componente della mia panchina non potrò inserire il giocatore numero tre ad esempio a sostituzione di un giocatore che è già stato sostituito all'interno dei del conteggio delle sostituzioni non sono conteggiate le gli ingressi del libero il libero che entra il giocatore deputato unicamente per la seconda linea entra azione per azione e non viene conteggiata come come cambio ordinario ogni squadra a due time out da 30 secondi all'interno di ogni set quindi l'allenatore ha la facoltà di fermare il gioco e poter richiamare la squadra in panchina per parlare di alcune situazioni e a disposizione 30 secondi per esplicitarle ogni partita ogni partita avviene al meglio dei cinque set con quattro set ai venticinque punti più una più un tie break ai quindici il quinto set dura quindici punti e appunto ha questa particolarità di essere più breve ogni set si conclude si conclude unicamente ai vantaggi quindi la squadra vincente deve avere almeno due punti di scarto per quanto riguarda normalmente diciamo in generale l'assegnazione dei punti per quanto riguarda il campionato le vittorie le squadre che vincono 3 a 0 quindi 3 set a 0 o 3 set a 1 fanno 3 punti in classifica la squadra che vince 3 a 2 fa 2 punti in classifica e le squadre perdenti 3 a 2 realizzano un punto in classifica se perdo 3 set a 0 o 3 set a 1 totalizzo 0 punti questo normalmente è quello che diciamo di base il sistema di punteggio che determina le classifiche dei vari campionati europei ogni palla assegna un punto quindi ogni azione assegna un punto sia che l'azione venga condotta in cambio palla sia che venga condotta in fase break cioè sia che io sia la squadra in ricezione quindi gli avversari stiano battendo oppure sia che io sia la squadra deputata a mettere in campo il pallone col servizio e appunto la squadra avversaria sia in fase di ricezione cambio palla procediamo con quelli che sono i falli principali allora abbiamo dei falli che sono diciamo a discrezione dell'arbitro in funzione di come il giocatore tratta coi fondamentali il pallone stesso abbiamo un fallo di doppia che cosa significa? significa un giocatore non può colpire il pallone in due momenti dissincroni questo che cosa significa? significa che io non posso colpire il pallone due volte consecutivamente cioè quindi i tre tocchi che ogni squadra ha a disposizione devono essere sviluppati da tre giocatori diversi un giocatore non può colpire il pallone due volte di fila in più soprattutto per quanto riguarda il fondamentale del palleggio il pallone deve essere colpito in maniera sincrona questo ne abbiamo già parlato diffusamente durante la parte pratica se no incorriamo in un fallo di doppia ma allo stesso modo se io ad esempio colpendo il pallone con il bagger il pallone schizza e mi colpisce il torace in un momento dissincrono quindi palla colpisce il bagger e poi mi colpisce perché scorre sopra il mio petto sopra la mia spalla quello viene sanzionato come fallo di doppio tocco non è possibile proseguire l'azione il fallo di accompagnata il fallo di accompagnata è un fallo sempre discrezionale dell'arbitro che non permette al giocatore di di fatto bloccare il pallone anche per pochi istanti per poi rilasciarlo lo sport è uno sport di rimbalzo e quindi in teoria i giocatori devono appunto soltanto lavorare di sponda nei vari tocchi nei vari passaggi sia in tutti i fondamentali fondamentalmente anche col palleggio cioè io non posso bloccare il pallone e rilanciarlo ma devo farlo rimbalzare sui polpastrelli abbiamo già parlato anche di questa cosa diffusamente il fallo di quattro tocchi cioè una squadra invece che arrivare soltanto a tre tocchi per poi rimandare la palla nel campo avversario effettua quattro tocchi questo ovviamente non è permesso dal regolamento falli di rotazione i falli di rotazione sono collegati alla prima parte di questo video cioè nel momento in cui la palla viene messa in gioco e ha inizio l'azione stessa ogni giocatore ha una posizione che è bloccata non può trovarsi in una posizione diversa quindi dovrà avere un tal giocatore alla sua destra e un tal giocatore alla sua sinistra ok? perché? perché ha due giocatori che gli sono vicino nella rotazione iniziale nella posizione iniziale quelle famose posizioni di 1,6,5,4,3,2 ok? e quella sequenza va rispettata nel caso in cui uno dei giocatori si faccia trovare fuori posizione l'arbitro blocca immediatamente l'azione e concede un punto alla squadra avversaria poi abbiamo i falli di invasione che si dividono in due categorie il fallo di invasione a rete che normalmente viene effettuato o dall'attaccante o dal muratore che fondamentalmente che cosa significa? significa che io giocatore della squadra A durante la mia azione che sia normalmente di attacco o di muro ma in realtà anche in alzata può succedere se tocco la rete col mio corpo in automatico la palla finisce alla squadra avversaria cioè commetto un fallo e regalo un punto ai miei avversari viene conteggiato come errore ok? piccolo dettaglio sempre regolamentare con le specifiche in particolare per la pallavolo femminile ma in realtà anche per la pallavolo maschile nel caso dovesse accadere i capelli quindi le code di cavallo se toccano la rete non vanno non vengono conteggiate come fallo di invasione a rete se i giocatori toccano con i capelli durante la fase di cambio di direzione o durante la fase di attacco perché comunque hanno magari le code di cavallo o le trecce se toccano la rete questa non viene conteggiata come invasione e poi abbiamo l'invasione di linea l'invasione di linea avviene in due momenti o al servizio quindi se io effetto un servizio che implica una fase di volo una fase di salto quindi o batto salto spin o batto salto flop significa fondamentalmente o batto il salto spin e di fatto un attacco oltre la linea dei nove metri e il salto flop invece la palla rimane immobile nello spazio invece che ruotare in ambe due i casi il mio stacco quindi la fase del battitore prima della fase di azione io posso prendere una rincorsa e staccare ma il mio salto deve avvenire prima della linea di fondo campo se io pesto la linea la palla viene viene data alla squadra avversario con un punto ok? viene conteggiato di fatto come errore diretto e poi abbiamo un secondo tipo di fallo di linea che è sempre correlato al discorso delle rotazioni che abbiamo illustrato nella prima fase del video che è quella in funzione dell'attacco che proviene dalle posizioni 1, 6 e 5 quelle di seconda linea cioè io se attacco un pallone sopra la linea del nastro sopra la linea diciamo del margine alto della rete e effettua un colpo d'attacco il pallone l'attaccante deve staccare prima della linea dei 3 metri cioè deve saltare prima della linea dei 3 metri poi può atterrare dentro questa cosa avviene sia per il battitore sia per l'attaccante cioè quindi sia per la linea dei 9 metri sia per la linea dei 3 metri io stacco prima della linea poi posso atterrare all'interno del campo per quanto riguarda il servizio e all'interno della prima linea per quanto riguarda l'attacco però l'importante è che la mia fase di volo parta incominci prima del margine della linea deputata ok? quindi devo staccare il mio ultimo appoggio deve essere prima di queste due linee nel caso contrario viene concesso un fallo di invasione e viene appunto concesso un punto alla squadra avversaria che che sono prima che ho 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 Grazie a tutti.